Un dubbio, quello che ci stiamo chiedendo dalla fine del primo tempo in poi, ovvero le condizioni di Gigi Buffon, ovvero c'è Prof Castellacci con Aurelio Capaldi. Buonasera Prof. Naturalmente vogliamo essere rassicurati, professore. Sì, Gigi avete visto che in una parata si è stirato sulla spalla destra, niente di assolutamente grave, ma uno stiramentino sulla cuffia dei rotatori, cioè sui tendini che rivestono la spalla, c'è stata. E quindi anche a livello precauzionale giustamente il mister l'ha sostituito con Morgan. Nulla di grave però, no? Assolutamente niente di grave, per cui non ci sono problemi per il recupero nelle partite che poi conteranno davvero. I prossimi giorni si allenerà regolarmente? Beh, prima farà della fisioterapia, delle cure adatte e poi si allenerà regolarmente, sì. Va bene, ci sentiamo leggermente, cioè alleggeriti fino a un certo punto, perché il tono del prof non è proprio così, eh Prof? Ma io non so se ti magari hai visto un'altra partita... No, 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 io parlo al medico, parlo al medico, parlo al tifoso. No, 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 per carità, il mio tono non è esuberante come avrei potuto averlo dopo una vittoria. Per carità, niente di grave secondo me neanche in questa sconfitta, però chiaramente il tono dell'umore non è proprio al massimo. Certamente non lo era per le condizioni fisiche dei ragazzi, ecco, per cui tranquillizzatevi da questo punto di vista. Grazie, grazie Enrico, grazie. Grazie a voi.